Puntata di Raw che si apre con l'American Nightmare Cody Rhodes che si presenta per parlare di quanto è successo settimana scorsa con Jey Uso, ovvero della chiusura di show quando lui è corso in soccorso dell'ex membro della Bloodline, mentre Drew McIntyre se ne è bellamente sbattuto il belino e se ne è andato nel backstage. Ha poi sottolineato come qualcuno dovrà andare a SmackDown visto il passaggio a Raw di Main Event J e sa anche che nello spogliatoio il gemello Samoano non è ben visto per le sue azioni passate nella famiglia di Roman Reigns. Un segnale potrebbe essere stato il rifiuto del Judgment Day che si è poi presentato sullo stage tranne ovviamente Rhea Ripley che sta ancora vendendo l'infortunio occorso per mano di Nia Jax con Dominic che non è riuscito a parlare, chiaramente sommerso dai fischi del pubblico con Rhodes che gli ha detto che nessuno apprezza il figlio di Rey. La stable nero-viola ha poi cercato di attaccare l'ex membro della All Elite Wrestling, ma prima Jey Uso e poi Kevin Owens e Sami Zayn, ma guarda te che novità, sono occorsi in suo soccorso. JD McDonagh si è presentato armato di sedia, ma purtroppo per lui e per i suoi amichetti i face hanno avuto la meglio con Damian Priest che è rimasto da solo sul ring gettandosi all'attacco degli altri quattro ma buscando una caterva di mazzate. Primo match di serata, Bronson Reed contro Otis, va uno squoscino ai danni di Otis con questi due colossi del quadrato che si sono scontrati per poco meno di 5 minuti, stanno cercando di ridare un po' di credibilità a Bronson Reed che dopo aver evitato la Vader Bomb di Otis ha messo a segno la Tsunami e si è portato a casa, lo schienamento vincente. Tegan Nox sfida Becky Lynch per il titolo, ma anche Natalia vuole un match per il titolo perché è una veterana e quindi se lo merita. Cosa? Quindi, number one contender match, Tegan Nox contro Natalia per decidere chi sarà la sfidante di The Man. Ludwig Kaiser contro Tommaso Ciampa. L'ex compagno di Gargano vince ancora schienando Kaiser grazie alla sua knee strike in salto, soprattutto perché Vinci ha fornito una distrazione involontaria al compagno Kaiser, in realtà all'arbitro che non si è accorto di uno schienamento dello sgherro di Gunther e questo ha portato al segmento finale con vittoria di Ciampa che probabilmente a questo punto finirà contro l'austriaco, prima o poi, non credo che riuscirà a strappargli la cintura, però al campione intercontinentale servono nuovi sfidanti, serve carne fresca e direi che Ciampa è un ottimo banco di prova per mandare avanti il suo regno. Battiamo i minion per arrivare al boss finale. Tegan Nox contro Natalia, due minuti di match, Shinest Wizard di Tegan Nox, schienamento e quindi title shot guadagnata per il titolo di NXT a no mercy. Damian Priest, incazzato come una faina, trova J.D. McDonagh nello spogliatoio del Judgment Day e inizia ad insultarlo dicendogli che non è del Judgment Day, non sarà mai del Judgment Day e lo accusa di aver provocato il pestaggio visto in apertura di show. Seth Rollins sale sul ring perché è stanco dei comportamenti di Shinsuke Nakamura e vuole che il re dello Strong Style accetti la sua sfida visto che continua a fuggire nonostante che continui anche a tormentare il campione mondiale. Quindi se non si presenta ora, se non accetta la sfida, guarderà avanti e cercherà un nuovo number one contender. Anche questa volta Shinsuke non si presenta fisicamente ma appare sul Titan Tron dicendo che vuole un'ultima chance. Sa che il corpo di Rollins sta cadendo a pezzi, sa che la sua schiena è il punto debole, quindi a Fastlane, last man standing match. Interessante, interessante. Seth non è apparso intimorito e anzi ha detto che Nakamura ha commesso un grave errore dicendo che questa sarà la fine e soprattutto coinvolgendo la famiglia del visionario. Quindi ci vediamo a Fastlane. Ricochet in stampelle vuole vendetta nei confronti di Shinsuke Nakamura, indipendentemente da quanto accadrà nel prossimo premium event, quindi che vinca o meno la cintura. Match per il titolo nordamericano Dragon Lee contro il campione Dominic Mysterio. Dieci minuti di match, quindi non un minutaggio esagerato, però grande incontro e Dominic mi ha convinto, sta migliorando parecchio questa sua trasformazione in il super odiato, forse gli ha fornito un'ulteriore sicurezza quando è sul quadrato e non mi dispiace per nulla, posso dirlo. E anzi, ok, non dico che abbia vinto in maniera proprio pulita perché Dominic ha evitato un DDT di Dragon Lee schiantandogli le palle sulla corda più alta, però è stata di fatto una vittoria legale perché poi ha connesso la sua Frog Splash e ha difeso il titolo nordamericano. Una gran contesa, devo dire che mi sono molto divertito, lo stile atletico di Dragon Lee si è amalgamato a quello di Dominic, sicuramente ha anche aiutato visto il talento dello sfidante e poi il figlio di Rey doveva rifarsi anche della sconfitta contro Cody Rhodes. Ci sta, onestamente ci sta. Kevin Owens e Sami Zayn sono pronti a vincere i titoli di coppia e a riconquistarli con Kevin Owens che aveva una maglietta della coppia Rey Mysterio e Di Guerrero, due amiconi che splittano, no. Nia Jax dice di essere la più cattiva della WWE, anche se tutti pensavano fosse Ria Ripley, abbiamo visto cosa le è successo, quindi Shayna Basz, Zoe Stark, Cracker Rodriguez, eccetera eccetera, sono state massacrate dalla sua forza, bla bla bla. Zoe Stark contro Nia Jax, due minuti di match, squash vinto chiaramente da Nia Jax con la sua Honey Lator, e non la sopporto ragazzi, mi dà fastidio anche analizzare le parti in cui appare Nia Jax, scusami eh, scusami, però ti odio, no no ti odio no dai, mi sembra eccessivo, ma non c'era bisogno, non ce n'era davvero il bisogno. Juso ha detto che non si è unito al Judgment Day perché non vuole più sapere nulla di gruppi, fazioni, eccetera eccetera, e stasera si guarderà il match per i titoli di coppia pronto a far qualcosa nel caso in cui il Judgment Day dovesse fare roba da Judgment Day. Finn Balor si complimenta con Dominic Mysterio, Miz TV con ospite Drew McIntyre. Il Magnifico ha un po' provocato lo scozzese dicendogli che entrambi sono la spina dorsale della WWE, McIntyre è stato campione del mondo e sarebbe potuto tornare campione del mondo a Clash of the Castle, ma la Bloodline, incluso Juso, gli è costata il titolo. E forse anche questo è il motivo per cui Drew non ha aiutato Juso durante il passaggio della settimana scorsa, ma ecco il New Day che si intromette dicendo a McIntyre che non lo riconoscono, non è il Drew che sono abituati a vedere, prima era Big D, ok questo ha un doppio senso, e adesso questo Big D si sta un po' rimpicciolendo e questo era un altro doppio senso, vabbè, Raid Dar. Poi hanno parlato ancora del segmento finale della scorsa settimana con Coffey che ha detto che McIntyre avrebbe dovuto aiutare Juso, però lo scozzese ha tirato fuori tutti i casini fatti dalla Bloodline, quindi non se lo merita, Glasgow Kiss di McIntyre, i danni di Demitz che continuava a rompere le palle da dietro tipo il diavoletto sulla spalla, e siamo pronti al match tra McIntyre e Coffey Kingston, già annunciato settimana scorsa mi pare. Mentre consolava Otis, Gable ha promesso a Gunther che prima o poi conquisterà il titolo intercontinentale, Drew McIntyre contro Coffey Kingston. Una dozzina di minuti di match, bel match tra questi due, chiaramente ha vinto Drew McIntyre, ma perché è anche successo un po' di casino ancora con questi vichinghi e che due palle? Infatti Ivar ha attaccato Xavier Woods fuori dal ring, Kingston si è distratto, Claymore di McIntyre, schienamento di tre, e come settimana scorsa, stavolta con i protagonisti differenti, Ivar ha massacrato Coffey Kingston e McIntyre se ne è sbattuto e se ne è andato facendo spallucce. Se non è un tornil questo, non so cosa sia un tornil. Gunther ha sbroccato con Vince e Kaiser dicendo che non gli concederà più errori. E ora dovrà occuparsi personalmente di Ciampa. Main event di serata, match per i titoli di coppia Judgment Day contro Kevin Owens e Sami Zayn. Beh, che vuoi dire? A una contesa del genere, 20 minuti, con quattro ottimi partecipanti, divertentissima, ha vinto il Judgment Day, ma perché come al solito è successo un bordello alla fine della contesa, perché prima si è intromesso Dominic, poi per fermare Dominic è arrivato Jey Uso, ma quindi è arrivato anche JD McDonough che ha attaccato Jey Uso, quindi Cody Rhodes ha salvato Jey Uso attaccando JD McDonough e alla fine, stunner su Balor, McDonough ha interrotto le luva kick di Sami Zayn, anzi in realtà Sami Zayn ha connesso le luva kick su Priest, ma si è beccato una cinturata o una valigettata, non l'ho capito benissimo, in faccia proprio da JD McDonough e Priest ha semplicemente allungato la manina per schienare il canadese, conto di tre, dopo il match, rissone generale di nuovo tra, indovinate chi, Judgment Day, Kevin Owens, Cody Rhodes, Sami Zayn e vabbè Jey Uso che ormai si è aggregato, ma mi sembra sempre la stessa puntata, ma vanno tutte così, finirà mai questa rivalità, da quanti mesi è che va avanti? E temo che potrebbe andare avanti ancora fino a Survivor Series, magari War Games o quel che è, quindi un paio di mesi, ma siamo pazzi? Però devo dire che lo show di Raw è stato bello, abbiamo avuto un sacco di match, tanto wrestling non eccelso, certe volte, tipo Nia Jax, Tegan Nox con Natalya, Bronzo Reed con Otis, però le storyline vanno avanti, Drew McIntyre sembra voler tornare ill, Ciampa è pronto a Gunther, questa scena Judgment Day contro Rhodes, Owens, Zayn, eccetera, eccetera, prosegue, non sappiamo ancora chi passerà a SmackDown al posto di Jey Uso, non ci resta che restare connessi e scoprirlo, dal vostro certified è tutto, grazie mille per essere passati, vi invito a commentare lo show qui sotto nei commenti e ci sentiamo presto con un nuovo video, ciao!